Una bella giornata per Loreto e per le Marche, un servizio che viene offerto alle mamme che aspettano un bimbo e possono avere qui una diagnostica per Natale di secondo livello. Significa per le 12.000 partorienti marchigiane, 600 di loro possono avere necessità di un approfondimento di quello che è la condizione del feto per poter gestire al meglio dopo la nascita, tutti i bisogni del bambino. Sappiamo che i problemi congeniti sono quelli che causano nel primo anno i maggiori rischi di morte e in generale con limitazione di disabilità nel tempo. Se affrontate per tempo, se gesticate correttamente, in molti di questi casi permettono di mettere in atto scelte e terapie a favore del bambino e della famiglia. Quindi un bellissimo servizio in un luogo speciale che speriamo possa accompagnare, grazie agli spazi attrezzati alle tecnologie con la massima serenità alle famiglie che si affidano a questa struttura.